C'era un povero lignaiolo, mentre abbiati ci portai, portò un fascio di legna dai, fa asciugare... Dopo il successo del 29 dicembre a Ceraso, nella chiesa di San Nicola, Piera Lombardi torna con il suo concerto di Natale. Il prossimo appuntamento è per il 4 gennaio a Dominiano Scalo, all'interno della chiesa di Sant'Antonio di Padova. La serata avrà inizio alle ore 20. Un altro bel momento che la cantante cilentana, nativa di Casalvelino Scalo, offre al suo territorio. Piera Lombardi ha iniziato la sua carriera nel gruppo musicale Antea, portando alla ribalta la voce del Cilento nei primi anni del 2000. Con la sua energia ha fatto appassionare i anziani, giovani e bambini, non solo, del territorio cilentano. Infatti in quasi dieci anni di attività, attraverso i suoi concerti e la sua musica, mescolanza popolare in versione folk ed etnoworld, è stata in grado di offrire una chiave di lettura più ampia a quelle che sono le musiche tradizionali del Cilento e del Sud Italia in generale, proponendo un nuovo stile musicale alle cantate e melodie popolari, capace di unire la cultura e i popoli di molti paesi del mondo, Belgio, Germania, Grecia, Olanda, Spagna, Svizzera, USA e Venezuela. Venerdì 4 gennaio sarà possibile dunque ascoltare Piera Lombardi e la sua musica a Dominiano Scalo nella chiesa di Sant'Antonio, un'artista cilentana di spessore, insieme a lei musicisti Aristide Garofalo, Giovanni Peccerillo e Pasquale Mastro Giovanni, una serata TVA Record. Grazie a tutti, buonanotte! Buon anno!